Quindi in questo caso se hai problemi con Call of Duty su Xbox vai direttamente sui tre puntini su personalizza, quindi facciamo una personalizzazione del gioco, quindi vai sopra, una volta fatto vai direttamente su file e cerca un aggiornamento. Devi fare qualche aggiornamento, circolo qua sopra. Se non dovesse andare facciamo verifica e ripara e facciamo direttamente, farà così una verifica su Call of Duty. Se non dovesse bastare andiamo direttamente sulle applicazioni, sulle applicazioni installate sul nostro computer, scendi fino a giù, fino a trovare così Call of Duty. Eccolo qua, tre puntini, su opzioni avanzate e andremo così a fare un ripristino dell'applicazione. Cancellerà così i dati su Xbox, ma non è che cancellerà l'account, solamente il login, poi devi rifare di nuovo l'accesso, quindi inserisci le tue credenziali e puoi giocare a Call of Duty senza problemi. Quindi ripara e rimposta l'applicazione, tutto qua. Se non dovesse bastare puoi andare direttamente su supporto, quindi clicca sul tuo account in alto a sinistra e vai sul supporto. Clicca qua sopra sul servizio gaming. E schiaccia Start. Una volta fatto tutto il procedimento, è possibile andare direttamente sul supporto della Xbox, quindi in questo caso ti ho lasciato in descrizione così il link che ti porterà su questa pagina. Vai direttamente su Download qua sotto della versione, scendi fino a giù, fino a trovare Download Gaming Service Rapid Tool 4P. Un tool, quindi un servizio da usare sul nostro sistema per vedere se può aiutarci a risolvere il problema sull'Xbox. Quindi andiamo a scaricare così questo servizio, installiamo il nostro servizio e facciamo sì. Una volta fatto non ti resta che aspettare. Aggiornamento di Xbox App, quindi l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Ora, una volta fatto, ripetere le azioni e verificare che funzioni ora. Il problema è stato risolto? Facciamo Y. Facciamo sì. Basta. Operazione completata correttamente. L'errore 0x0. Siamo invio per chiudere. Una volta fatto in descrizione, ti ho lasciato così, dei comandi, dei codici da inserire direttamente sul PowerShell. Quindi, esegui come amministratore. Copia. Copia così il primo comando. Per ottenere così l'applicazione del Gaming Service. Fai CTRL V. E fai invio. Una volta fatto, prendi il secondo comando e lo inserisci. Ed eccolo qua. Servizi di gioco. E fai ottieni. Scarichi e installi così il servizio di gioco per Xbox. Una volta fatto, puoi chiudere qua. Che puoi scrivere Exit. Una volta fatto il tutto, andiamo direttamente sulle impostazioni. Vai direttamente sulle applicazioni installate. Quindi in questo caso, sopra, installazione, applicazioni. Scendi fino a giù, fino a trovare così l'applicazione Xbox. Tre puntini. Opzioni avanzate. Ed eccolo qua. Reimposta. Puoi fare direttamente un ripristino e reimpostarlo. I dati dell'app verranno eliminati. Quindi in questo caso dovrai fare l'accesso al tuo account. Puoi fare il login e basta. E fai un ripristino. E chiudi qua. Quindi, per altri problemi ancora, tu puoi commentare sotto al video. Se ti è stato utilissimo, puoi iscriverti e lasciare un like. Se hai problemi, basta che me lo scrivi. E in futuro realizzerò altre guide a riguardo. Quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.